Anche a parte mi hanno portato giù una scaletta, un vigoretto, a dire che tu cavolo mi è forte. Si è sguagliata, si è aperta una cosa, come una vetrata, qui soppella delle scuole. A me, per la due buona. E, tu lì c'era un piatto di minestrone caldo che fumava, dopo c'era un bicchierino di vodka, hai capito? Un po' d'acqua, un po' di... Ma dopo mi sono girato e gli ho detto che questa roba, quella è la cena mia. Dopo gli ho fatto vedere che ero dentro ospite di scusa. Oh, hanno messo le mani così, mi hanno messo a sedere, mi hanno portato giù. Prima vorrei che non mi ha più tutto. Dopo ci hanno diventato gli amici. Quella delle teste che era? Quella delle teste che era? No, per l'altro. Eravamo a San Marcanda, no? Vicino al deserto. Allora c'era un professore, era tutta la gente, ha visto scaricare un cagnoncino, ha detto un po' di mavele che roba è. E queste palle nere ci ha ruttolano, guarda, ma gli hanno detto, è le teste di piccola, bruschette, nere che le buttano sui carboni e non fanno attaccare i muschi. La fila le compravano, la fila le compravano, le portano a casa, le tengono altri giorni e abbandono. Poi ci fanno il brodo. C'hanno le garote, la giù c'hanno le garote gialle e le garote russe, i minestroni, sempre garote. Dopo dopo dietro ti passava il brodo caldo, per modo che erai con 40 gradi. Sì, sapete, un canesso che c'era la tua sultanina, la buttano dentro, si gonfia, c'era la mia cimile. Dopo con gli altri e ciappano le mani, no? Quando passavano l'albergo. Carcaritan ce la mette. 40 gradi. 40 gradi. Sì, dopo un. Questo più bello quando, dico, 15 giorni ci siamo stati, quando siamo rientrati a Musca, capirai, avevano visto che era la vetrina subito dall'ario, c'erano i panini con la mortatella, la roba, e li tolta, aperto via, li compro tutti. Ha tirato fuori un bastone, questa le bastonate nelle mani, perché gli smettino io per agito, perché non mangia loro, no? Ma non è un spiega un cazzo? E io 15 giorni, avevano visto questa mortatella così, una vita che mangiava. Ma che ce l'ha andato a fare 15 giorni? E' fatto tutta la Russia sia. Ma era una gita? Una gita. 35 volte nel plano di presto. Guarda, 4 milioni quella volta, parliamo. E non si è mangiato niente? Eh? No, non si è venuto, dico. Col partito era la vincola? Eh? Col partito? No, no, era la maggior parte. Era una gita di tutti. Paolo è subito, eh? Eh? No, di Paolo. Ti dico, la gita più bella, guarda, la rimo tutti indietro. Guarda, 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 guarda.